Bentornato, io sono Daniele Cottino sul web Giacomo Saver e sono direttore dell'Investment Club. In questi video sto condividendo con te i segreti della strategia che mi hanno permesso negli ultimi 5 anni di ottenere rendimenti sui miei portafogli compresi tra un minimo del 25% e un massimo del 46%. Prima di passare al contenuto di quest'oggi che è l'ottimizzazione dei portafogli, permettimi di ringraziare le persone che hanno commentato il video, che mi hanno fatto i complimenti in privato e che apprezzano ciò che faccio. Nello scorso video abbiamo parlato di strategia e ci siamo focalizzati sull'importanza di avere una quota azionaria minima, media e massima per ciascuno dei portafogli che andrai a costruire o semplicemente per il tuo portafoglio. Adesso si tratta di capire quando stare al minimo della quota azionaria prevista, quando stare nella parte centrale e quando stare al massimo. Sebbene esistano tanti indicatori per poter fare l'ottimizzazione e io e il mio team ne utilizziamo anche diversi molto complessi, io vorrei fare le cose semplici ma non banali e te ne propongo uno soltanto che è l'indicatore prezzo utili o price earning o P barra U. Questo indicatore lo trovi facilmente sul sole 24 ore, se lo comprerai il sabato all'interno troverai un inserto che si chiama al plus che riporta il rapporto prezzo utili su tutti i principali indici mondiali. Come deve essere il prezzo utili? Allora se esso è superiore alle 30 unità direi è un segnale abbastanza forte di sopravvalutazione del mercato azionario e questo si traduce da parte tua nella necessità di stare al minimo della quota azionaria prevista per il tuo portafoglio. Se il prezzo utili è inferiore a 15 il mercato è verosimilmente sottovalutato e quindi conviene stare al massimo di azioni, in tutti gli altri casi quindi quando il price earning è compreso tra 15 e 30 come adesso dove più o meno siamo da un minimo del 16 a un massimo del 22-23 stai sulla parte centrale del tuo portafoglio. Quindi se il range è per esempio 30-40-50 quando il price earning è superiore a 30 starai al 30% di azioni che è la parte minima. Quando il price earning è compreso tra 15 e 30 starai nella parte centrale, il 40%, quando invece il price earning è inferiore a 15 starai sulla parte alta della forchetta del tuo range cioè al 50% di azioni. È tutto molto semplice, se vuoi rendere l'indicatore un pochino più preciso, annusa l'aria. Cioè se tu vai in palestra e anziché parlare di donne negli spogliatoi senti parlare di Netflix e questo si accompagna a un price earning alto, forse è il caso di ridurre la quota azionaria. Se tu vai a portare tuo figlio a giocare a calcio e senti i papà che sono disperati, che pensano che il mondo finisca e il price earning è inferiore a 15, allora è il caso di incrementare l'azionario. Questo non ti garantisce ovviamente mai di comprare sui minimi e vendere sui massimi, però ti aiuta a evitare le situazioni estreme, tenendo presente che una parte azionaria minima ce l'avrai sempre, anche quando il mercato è sopravvalutato, perché le fasi di sopravvalutazione possono durare nel tempo, i mercati sono sempre lì pronti a stupirci, un grande analista disse i mercati sono di grandi frustratori e quindi non ha senso stare a zero di azioni come abbiamo visto nel video precedente, nemmeno quando il mercato è palesemente sopravvalutato, però sicuramente in quel caso lì conviene stare al minimo. Ti ripeto, oggi la situazione è neutra, i price earning sono nel range tra minimo e massimo che ti ho indicato e quindi conviene stare nella parte centrale del tuo portafoglio. Tutto questo è bellissimo sulla carta, però finché il denaro virtuale si trasformi in banconote sonanti che entrano nelle tue tasche, devi fare un passo ulteriore, devi sfruttare una tua qualità. Questa qualità è così importante che ad essa dedicheremo il prossimo video che sarà disponibile a partire da dopodomani, mercoledì 4 maggio. Io ti invito a guardarlo naturalmente e ti chiedo la cortesia, come faccio d'abitudine, di chiederti appunto di commentare questo video per farmi le tue domande, per dirmi cosa non hai capito e per aiutare ad essermi utile. A presto e buon proseguimento.